Area vestina e penne in lutto. E' scomparso all'età di 87 anni Lucio Marco Tullio, ex sindaco della cittadina del Pescarese, dal 1993 al 2001 e padre della Brioni Roman Style assieme a Nazareno Fonticoli. In 48 anni di attività manageriale e imprenditoriale, dalla fondazione nel 1959 della Roman Style S.p.A., Marco Tullio ha creato a Penne uno dei più grandi centri produttivi dell'Abruzzo. Nei 15 anni successivi, attraverso la sua lungimiranza imprenditoriale, condusse Brioni verso l'eccellenza del Made in Italy nel segmento dell'abbigliamento maschile di lusso. Sindaco di Penne per due mandati, dal maggio del 1993 al giugno del 2001, Marco Tullio per 7 anni è stato presidente dell'Unione Industriale della provincia di Pescara e per 4 presidente regionale della Confindustria Abruzzese e presidente della fondazione Formoda. Tra i tanti messaggi di cordoglio, giunti in queste ore, quello anche attraverso la pagina Facebook dell'intera amministrazione comunale di Penne, che tramite Gilberto Petrucci commenta così la scomparsa del professor Marco Tullio. È stato un uomo eccezionale che ha contribuito alla crescita e entusiasmare i giovani. Una persona dalle opinioni nette e decise, mai convenzionali. Rimarranno indelebili i suoi insegnamenti, la sua integrità e il suo amore per l'istituzione. Messaggi di stima da tutto il mondo imprenditoriale e politico, tra i quali anche quello dell'ex presidente della regione Abruzzo e attuale senatore Luciano D'Alfonso. È stato il primo cittadino di tanti comuni d'Abruzzo, poiché ha donato cuore e cervello, immaginazione e ragionamento alle utilità sociali della economia migliore e alle bellezze realizzative delle mani degli uomini, avendo sempre a mente l'irripetibile del creato. Lucio Marco Tullio resta l'esempio, la forza di trazione riuscita di una grandissima comunità senza confini di territorio. La morte del professor Lucio Marco Tullio di certo lascerà un vuoto incolmabile per la comunità di Penne dell'area vestina, così come in tutta la regione Abruzzo.